Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo video. Allora, prima di cominciare, un paio di premesse. Questo è un video di corredo ad un articolo che uscirà su Tutto su Linux. Non l'ho ancora scritto, ma vi raccomando di non perdervelo andando su Tutto su Linux.it perché vedremo dei comandi e sarà bene anche averli in forma scritta per poterli anche copiare eventualmente. Comunque, questo è un video su uno strumento di backup, R-Snapshot, non è un video su strategie di backup. Per quello dovete vedere un po' voi in base alle vostre esigenze. Cosa intendo dire? Ci sono diverse strategie di backup. Un conto è fare una singola copia di backup, che ne so, sullo stesso disco. sarebbe una strategia pessima. Un conto è avere diverse copie di backup, una qui, una lì, in modo tale da salvarsi nel caso di catastrofi, diciamo. Quindi non parleremo di strategie di backup. Se vi serve una forte strategia di backup, rivolgetevi a qualche aspetto o valutate bene per conto vostro. Qui parleremo semplicemente di R-Snapshot, che ci permette di fare dei backup di specifici file, specifiche directory, oppure dell'intero sistema operativo. Ci permette di fare il backup del nostro sistema locale, di un nostro computer, oppure di una macchina in remoto, ammesso che abbiamo accesso a quella macchina in remoto. Ci permette di fare backup snapshot incrementali, quindi risparmiando anche spazio sui dati che andremo a copiare. E sono backup che possiamo fare noi manualmente, oppure automatici. Quindi li andremo a schedulizzare a determinati... a intervalli regolari. Backup giornalieri, settimanali, mensili, tutto quello che vogliamo. Allora, R-Snapshot è sicuramente validissimo ed è quasi cross-platform, direi, nel senso che è compatibile con tutti i sistemi Unix, Unix-like. Quello che vi serve è semplicemente R-Sync, perché si basa su R-Sync, e quindi lo potete utilizzare su qualunque sistema Unix, Unix-like, anche senza interfaccia grafica. Quindi meglio di così direi che non si può. Vi ripeto, se lo volete utilizzare, prendeteci confidenza, fate dei test. I test non sono lì solo per vedere che lo strumento funziona, ma anche per vedere se siete in grado di maneggiarlo, questo strumento. Allora, partiamo. Facciamo questo test. Vi faccio vedere come utilizzare R-Snapshot su una macchina virtuale con una distribuzione GNU-Linux minimale al massimo. Perché? Mi dispiace non farvi vedere un'interfaccia grafica, però vorrei anche risparmiare tempo nel fare i backup. I backup successivi al primo non richiederanno chissà quale tempo, ma il primo backup è una copia intera di quello che dobbiamo fare, di quello che dobbiamo copiare. Per cui vorrei copiare il minimo possibile. E qua abbiamo praticamente solo un giga da copiare. Allora, per prima cosa dobbiamo installare R-Snapshot. Se siete su distribuzioni basate su Debian oppure su Ubuntu, andate con sudo apt install r-snapshot, ok, oppure se siete su Fedora, sudo dnf, oppure su distribuzioni basate su Arch, sudo pacman-s maiuscola r-snapshot, ok. Io già l'ho installato, quindi dopo averlo installato, vi ritroverete un suo file di configurazione di default su slashetc slash r-snapshot.conf. Quindi lo apriamo, metto la password, ok, il file si presenta così. La prima riga che andremo ad editare è questa, cioè la locazione, il percorso su cui questi snapshot andranno creati. Direi che così, per come stanno le cose, ha poco senso perché andremo a crearli semplicemente sul disco di cui vogliamo fare delle copie di backup. Quindi, facciamo una cosa, io commento questa riga e la cambio con diciamo che vogliamo fare i backup su un dispositivo esterno e questo dispositivo esterno sarà montato su slash mnt e quindi andiamo con slash mnt slash diamo il nome che vogliamo, ad esempio snap shots, ok. Va bene, intanto chiudo chiudo questo file salvo e chiudo e vi faccio vedere che su questo sistema ho un'unica partizione sda1 quindi faremo il backup dell'intero file system quindi faremo un backup completo dell'intero sistema operativo su sda2 invece facciamo finta che sda2 è una qualche memoria esterna e quindi io monto adesso questa memoria esterna con sudo mount slash dev slash sda2 su mnt ok, possiamo andare a vedere cosa abbiamo su slash mnt a momento niente comunque si tratta di un diciamo una memoria esterna con una partizione ext4 esattamente come la partizione del sistema operativo va bene ritorniamo sul nostro file di configurazione di rsnapshot poi questa qua che vedete no create root potrebbe farci comodo nel caso appunto di memoria esterna però non è così importante la saltiamo ecco adesso ci da un avvertimento per noi utenti linux dobbiamo decommentare questa riga in caso che sia commentata qua già è decommentata quindi andiamo avanti va bene tutto così andiamo avanti andiamo avanti andiamo ancora avanti ok adesso vediamo questi tipi di backup alfa beta gamma eccetera al momento rsnapshot andrebbe a salvare fino a 6 backup alfa fino a 7 backup beta fino a 4 backup gamma se volete potete pensare ad alfa come a backup snapshot giornaliero a beta come snapshot settimanale a gamma come snapshot mensile poi andremo a vederlo va bene quindi avremo fino a 6 backup giornalieri fino a 7 backup settimanali fino a 4 backup mensili andiamo avanti va bene qua possiamo impostare il livello di verbosità se vogliamo più informazioni meno informazioni ma andiamo avanti ok ssh args questo vi potrebbe importare solo nel caso in cui andate a fare un backup di una macchina remota perché come detto potete fare backup della macchina remota se avete accesso ssh però in base a come avete quell'accesso ssh avrete bisogno di impostare qua delle opzioni ad esempio vabbè la decommentiamo facciamo finta che vogliamo fare il backup di una macchina remoto e su quel non è la porta standard 22 ma è la porta 22 22 quindi in questo caso dovremmo editare questa linea in questo modo andiamo ancora avanti one fs one file system allora come detto qua stiamo andando a fare il backup completo dell'intero sistema operativo ma il sistema operativo è su un'unica partizione su un unico file system se avete più file system dovete vedere un po' voi come comportarvi qua potremmo mettere ad esempio one file system uno e rsnapshot vedendo che ci sono più file system montati si ferma su quello principale di cui volete fare lo snapshot non so se mi sono spiegato comunque possiamo anche ignorare questa opzione tanto ci sono altre possibilità nel senso anche nel caso in cui avete diversi file system potete escludere poi voi le sottodirectorie che volete escludere come ecco lo vediamo qua potete includere tutto quello che volete e potete escludere tutto quello che volete andate a fare il backup dell'intero sistema operativo non ha senso fare anche il backup copiare la directory slash dev dove ci sono i dispositivi no non ha senso fare il backup della directory proc non ha senso fare il backup di sys della directory temporanea di run di mnt addirittura su mnt abbiamo il dispositivo esterno su cui andremo a fare le copie quindi non so se mi spiego escludiamo anche media lost più found se avete uno swap file così lo escludiamo pure va bene ok andiamo ancora più in basso ok adesso comincia la parte importante qua per impostazione predefinita voi fareste un backup della home di tutta la home per tutti gli utenti di etc e di usr slash local io direi che copio una riga la incollo commento tutte a parte quella che ci interessa però quella che ci interessa la cambiamo in questo modo lasciamo slash backup della directory root perché vogliamo fare il backup di tutta la partizione le sottodirectorie che non ci interessano le abbiamo già escluse e quindi abbiamo già finito la configurazione di rsnapshot allora cosa abbiamo fatto stiamo facendo il backup di questo computer quindi un backup locale però su dispositivo esterno che è montato su mnt allora salvo e chiudo e ricontrolliamo cosa avevamo su slash mnt non c'è niente facciamogli fare un test a rsnapshot per vedere se il file di configurazione è a posto quindi facciamo config test syntax ok va bene non abbiamo sbagliato nulla quindi prima di iniziare facciamo in questo modo sudo rsnapshot trattino t alfa alfa avevamo visto che c'era alfa, beta e gamma andiamo con alfa allora lui in questo modo non ha fatto un backup ma ci dice quello che andrebbe a fare e come vedete va a creare su slash mnt la directory snapshots così l'avevamo chiamata e poi su snapshots va a creare alfa 0 perché questo sarà l'unico backup l'unico snapshot che abbiamo in questo momento alfa 0 se ne creiamo altri poi avremo alfa 0 alfa 1 alfa 2 eccetera va bene sembrerebbe tutto a posto quindi togliamo meno t e diamo sudo rsnapshot alfa ora ci vorrà un po' come detto non tantissimo perché si tratta di un sistema minimale comunque io metto il video in pausa e ci rivediamo dopo ok il primo backup è stato fatto non non c'è stato segnalato nessun errore quindi adesso andiamo su mnt vediamolo un po' vedrete una sorpresa intanto vediamo che è stata creata la directory snapshots così l'avevamo chiamata adesso se io vado a fare un ls di snapshots se voglio vedere il contenuto di snapshots è impossibile permesso negato ecco quindi rsnapshot per impostazione predefinita diciamo che può essere utilizzato solamente dall'amministratore del sistema e direi che va benissimo così poi se voi amministratori del vostro computer volete dare la possibilità anche ad altri di ripristinare dagli snapshot dovreste cambiare i permessi su questa cartella su questa directory comunque noi andiamo semplicemente con sudo e andiamo a vedere cosa abbiamo quindi andiamo slash mnt slash snapshot cosa abbiamo qua dentro ecco alfa 0 se andiamo a vedere cosa abbiamo dentro alfa 0 localhost localhost ok ecco ma vedete ecco qua tutte le directory del sistema quindi abbiamo fatto un backup completo allora se poi vogliamo ripristinare questo backup completo ecco proprio il percorso che dovremmo utilizzare snapshots alfa punto 0 localhost come minimo dovremmo utilizzare questo localhost poi in realtà è possibile anche fare un ripristino parziale diciamo se andiamo sul localhost che ne so etc ecco questi sono tutti i file diciamo che vogliamo semplicemente ripristinare pacman punto conf non lo so se lo vedete pacman punto conf ok vogliamo ripristinare solo questo beh allora a quel punto se vogliamo un ripristino di questo specifico file ecco il percorso che dovremmo considerare snapshots slash alfa punto 0 slash localhost slash etc slash pacman punto conf comunque non vi preoccupate la cosa vi sarà chiaro una volta che vedremo come ripristinare ok questo è l'unico backup se ne andiamo a fare un altro se ne andiamo a fare un altro qua non vedremo semplicemente alfa 0 ma vedremo pure alfa 1 poi al prossimo vedremo alfa 0 alfa 1 alfa 2 e così via fino a 6 mi ricordo che ne ne conserva per impostazione predefinita potete cambiare questa impostazione ok ora vi faccio vedere che su questo sistema ho installato htop ecco qua lo sto utilizzando ora lo disistallo sudo pacman htop ok rimuovere adesso provate ad utilizzare htop ovviamente non va più l'ho disinstallato per rendere la cosa ancora più evidente andremo a rompere tutto il sistema comunque dovete sapere che se si tratta di uno snapshot dell'intero sistema operativo non potete ripristinare dallo stesso sistema operativo attualmente utilizzato dovrete ripristinare da live inserite una live una pendrive utilizzate linux in modalità live e fate il ripristino da là ve lo farò vedere allora intanto per rendere la cosa ancora più chiara andiamo a cancellare delle importantissime directory del sistema andiamo a far danno ok fatto adesso non solo non potremo utilizzare htop che ho disinstallato ma nemmeno sudo va non posso nemmeno spegnere il sistema non posso fare nulla il sistema e bello è andato non lo possiamo più utilizzare quindi cosa faccio devo forzare lo spegnimento da qua possiamo dire addio al sistema ma abbiamo i nostri backup quindi adesso vado in modalità live credo di avere un linux mint da poter utilizzare in modalità live cdrom ok scusate linux mint eccolo qua ed ecco linux mint la sto facendo partire in modalità live direi di mettere un'altra pausa e ci rivedremo quando linux mint avrà finito di caricarsi benissimo come prima cosa andremo a montare il file system il sistema che abbiamo danneggiato che era su sda1 e il file system la partizione su cui abbiamo i backup che abbiamo noi ci immaginiamo che quella sia un dispositivo esterno quindi direi di creare delle sottodirectorie su mnt sudo mkdir slash mnt originale per indicare appunto il sistema operativo originale e poi facciamo slash mnt backup per indicare appunto il dispositivo su cui abbiamo i backup quindi sudo mount slash slash dev slash sda1 su originale ok e poi su backup invece andiamo a montare sda2 va bene e vediamo su slash mnt backup cosa abbiamo abbiamo gli snapshot ovviamente ok alfa 0 alfa punto 0 vediamo che abbiamo local host local host ok perfetto potremmo fermarci qua nel caso in cui vogliamo ripristinare tutto un ripristino completo nel caso in cui invece vogliamo semplicemente ripristinare un singolo file ad esempio su avevamo visto slash tc pacman punto conf allora andiamo avanti con questo percorso andiamo ancora più avanti avremo localhost slash tc slash pacman punto conf se vogliamo un ripristino completo ci fermiamo al localhost va bene allora vado con sudo rsync abbiamo detto che abbiamo bisogno di rsync ed è preinstallato sul linux mint poi vado con trattino a r v a sta per modalità archivio r sta per per la ricorsività e v sta per la verbosità e poi vado con il percorso su cui abbiamo il backup backup snapshots alfa alfa punto zero local host ok e questo lo lo ricopio ovviamente su lo riportiamo su originale si originale basta così va bene non so quanto tempo ci vorrà metto il tempo e metto il video in pausa e ci rivedremo dopo abbiamo finito abbiamo già finito così tanto per scrupolo direi di assicurarci che tutto sia sincronizzato sudo sync ok e poi rimuoviamo le due partizioni che avevamo su mnt originale quindi sudo umount slash mnt slash originale e poi la stessa cosa la facciamo per backup fatto ora siccome di linux mint qua linux mint non succederà ovviamente niente se forziamo lo spegnimento così quindi ci sbrichiamo un po' vado a disattivare dalle opzioni di boot il cdrom la modalità live e partiamo con la nostra distribuzione che avevamo assolutamente danneggiato quindi in teoria non dovremmo nemmeno essere in grado di ripartire però abbiamo ripristinato dagli snapshot quindi aspettiamo un po' ecco intanto già siamo al login buon segno metto la password ok ora ricordate non si riusciva ad utilizzare assolutamente nessun comando vado con ls si va bene vado con sudo ls si già mi dice di mettere la password funziona htop che lo avevo anche disinstallato si eccolo qua htop perché ovviamente avevamo fatto un uno snapshot del sistema con htop è tutto funzionante va bene a questo punto potremmo fare altri snapshot con sudo r snapshot alfa ah scusate vi faccio vedere con meno t alfa ecco vedete lui andrebbe a creare ah scusate scusate prima devo montare questo fantomatico dispositivo esterno sda2 su mnt ok facciamo questo test di nuovo ecco ora si già ci mostra che andrebbe a creare una directory alfa.1 e ovviamente avremo anche una alfa.0 alfa.0 è sempre l'ultimo il più aggiornato alfa.1 sarebbe il secondo backup eccetera ok ovviamente non vogliamo fare questi backup così manualmente ma li vogliamo fare ad intervalli regolari gli alfa sarebbero i nostri backup giornalieri i beta sarebbero i nostri backup settimanali e i gamma gamma si sarebbero i nostri backup mensili come facciamo praticamente tramite crontab andiamo ad editare il file slash tc slash cron.d r snapshot ok sposto un po' la camera ora io vi ho inserito qua in alto un po' il significato ma se avete già utilizzato crontab un cronjob nella vostra vita già sapete come funziona abbiamo dapprima i minuti che vanno da 0 a 59 poi abbiamo le ore che vanno da 0 a 23 poi abbiamo i giorni che vanno i giorni del mese che vanno da 1 a 31 poi abbiamo il mese che va da 1 a 12 poi abbiamo il giorno della settimana che va da 0 a 6 lo 0 è la domenica e poi abbiamo il comando allora vi faccio vedere prima il comando non si vede bene comunque da prima il primo comando sarebbe snapshot alpha esattamente quello che abbiamo fatto noi manualmente il secondo comando sarebbe snapshot beta e il terzo r snapshot gamma quindi diciamo giornaliero mensile giornaliero settimanale mensile va bene cominciamo con quello giornaliero cosa abbiamo fatto qua abbiamo fatto che alle ore 4 quindi di notte alle ore 4 0 minuti di ogni giorno perché qua c'è un esterisco di ogni giorno di ogni mese e di ogni giorno della settimana quindi tutti i giorni tutte le notti alle ore 4 in punto verrà fatto un r snapshot alpha quindi uno snapshot giornaliero poi abbiamo fatto per esempio ore 3 quindi alle 3 di notte 0 minuti alle 3 di notte puntualmente ogni giorno vedete anche qua ogni mese ma ogni giorno 1 della settimana quindi ogni lunedì non verrà fatto un r snapshot beta anche di martedì solo di lunedì perché qua c'è un 1 quindi stiamo parlando di uno snapshot settimanale va bene andiamo adesso avanti con quello mensile vediamo che alle 2 di notte puntualmente ogni giorno no scusate ogni primo del mese ad ogni mese ad ogni giorno della settimana verrà fatto uno snapshot mensile perché ad ogni primo del mese perché qua c'è uno altrove abbiamo gli asterischi non so se sono stato chiaro va bene quindi questo è per schedulizzare gli snapshot adesso direi di farvi vedere lo snapshot di un singolo file di una singola directory non dell'intero sistema operativo quindi che facciamo intanto vi faccio vedere che ho una directory prova ci spostiamo su questa directory prova e qua creiamo un file file originale e scriviamo che ne so versione 1 così poi andremo a cambiarla e vi farò vedere che le diverse versioni verranno delle diverse versioni verranno fatti diversi backup incrementali ok allora poi cancelliamo i backup che avevamo fatto dell'intero sistema operativo ormai non ci servono più e però dobbiamo andare a configurare diversamente il file di rsnapshot quindi sudo nano slash etc slash rsnapshot punto conf questo lo possiamo lasciare così possiamo lasciare così il percorso su cui andare a fare gli snapshots sul dispositivo esterno va bene tutto così com'è poi andiamo ancora più in basso questi exclude ci servivano per il sistema operativo per l'intero sistema operativo adesso non più ma non ci danno fastidio quindi andiamo ancora più in basso l'unica cosa che andremo a cambiare è questo backup non facciamo più il backup della directory root il backup di tutto ma facciamo il backup che ne so di home slash user slash prova sì abbiamo detto che facciamo il backup di questa directory va bene su prova abbiamo già creato questo primo file facciamo prima di tutto un test della configurazione di rsnapshot sudo rsnapshots config test ok la sintassi è a posto quindi diamo meno t alfa e anche questo sembrerebbe a posto quindi facciamogli fare effettivamente questo primo snapshot fatto ora andiamo a modificare il contenuto del file originale avevamo versione 1 mettiamo versione 2 e facciamo un secondo snapshot modifichiamo di nuovo mettiamo versione 3 e facciamo un terzo snapshot se andiamo a vedere su mnt vedete abbiamo alfa 0 alfa 1 alfa 2 cosa conterrà alfa 0 ovviamente versione 3 cosa conterrà alfa 1 ovviamente versione 2 cosa conterrà alfa 2 ovviamente versione mi sono un po' confuso comunque la versione più vecchia quindi versione 1 va bene facciamo che rimuoviamo questo file originale ce lo siamo persi però abbiamo il backup trattandosi di un backup di un file singolo o comunque di una directory singola non c'è bisogno di avviare in modalità live possiamo farlo anche così con sudo sync avevamo visto meno ar e arv e poi andiamo su mnt snapshots alfa quale vogliamo recuperare la primissima versione allora andiamo con alfa punto 2 poi come sapete c'è sempre localhost ma in questo caso andiamo più avanti con slash home slash user slash prova esatto ora vabbè dobbiamo stare attenti allora stiamo dando fino a prova in questo caso lui va a prendersi il contenuto di prova ovvero file originale e allora qua dobbiamo dargli il percorso home user prova esatto e ancora è il nome del file file originale no cosa ho sbagliato ah scusate a posto di rsync ho scritto sync certo che non andava vabbè aggiungo la r adesso abbiamo il comando corretto fatto quindi avevamo eliminato il file ce lo siamo persi adesso rieccolo qua e siccome abbiamo fatto il ripistino da alfa 2 vedete guardate un po' cosa abbiamo dentro file originale versione 1 la primissima versione va bene adesso che abbiamo capito come funziona se ripristino da alfa 0 vediamo il contenuto adesso abbiamo versione 3 credo che abbiate capito come il tutto funzioni dovete stare bene attenti a questi percorsi come avete visto in questo caso eravamo interessati solo a questo file file originale quindi abbiamo dato tutto il percorso sulla memoria in cui abbiamo fatto il backup tutto il percorso fino a file originale e poi dal lato della destinazione che vogliamo ci siamo fermati alla directory prova su cui questo file era contenuto ok credo che siamo alla fine del video sarà stato un video lunghissimo ma bisognava spiegare un po' le cose per bene spero di essere stato il più chiaro possibile ripeto prima di passare definitivamente a rsnapshot su un sistema di produzione su cui avete dati importanti fate i vostri test prendeteci confidenza il problema non è rsnapshot potrebbe il discorso vale per qualunque sistema per qualunque tool vogliate utilizzare dovete saperlo maneggiare dovete essere in ogni momento sicuri di saper ripristinare esattamente alla situazione a cui volete ripristinare altrimenti è inutile potete avere qualunque tool ma se il problema è non saperlo utilizzare è davvero un problema va bene vi ricordo che uscirà l'articolo anche su tutto su linux punto it la vedrete tutti i comandi scritti per bene spero anche di organizzarlo il meglio possibile forse è meglio un articolo che un video per questo tipo di tema non lo so comunque spero che il video vi sia piaciuto noi ci vediamo alla prossima ciao da Clarintux